Sono Marianna Coluccio, di Cascina. Leggo la poesia di Abedullah Gora, Io vado, madre, per la manifestazione Un testo per la pace. Io vado, madre. Se non torno, sarò fiore di questa montagna, frammento di terra per un mondo più grande di questo. Io vado, madre. Se non torno, il corpo esploderà là dove si tortura e lo spirito flagellerà come l'uragano tutte le porte. Io vado, madre. Se non torno, la mia anima sarà parola per tutti i poeti.